Comandante Maggitti, oggi parlate di questa operazione Street Control che avete iniziato a Pescara da qualche settimana, un'operazione importante per il controllo del territorio e anche del traffico. Oggi abbiamo la possibilità con alcune strumentazioni, abbiamo tre macchinari che si chiamano Street Control, di passare a bordo di mezzi sulle vie più popolate e più frequentate della città, da via Venezia, adesso Conte di Ruvo, via Marco Polo, dove poi è stata fatta una nuova segnaletica, via Fabrizio ed altro, dove con l'operatore a bordo che individua immediatamente la doppia fila, c'è poi un'attività sussidiaria di fotografia e di riscontro delle macchine in doppia fila, quindi con una verbalizzazione immediata di ciò che accade. Ulteriormente e unitamente a questo meccanismo dello Street Control abbiamo un ulteriore macchinario che permette di individuare le auto senza assicurazione, ovvero sprovviste di revisione, con una doppia pattuglia che opera a monte e quindi individua al passaggio la macchina senza assicurazione e poi a valle quando viene praticamente fermata dalla pattuglia che contesta il verbale. Il tutto nella situazione di maggiore sicurezza per i cittadini, oggi abbiamo la piaga della mancanza di assicurazioni e di revisioni con tutto ciò che comporta poi a livello di costi sociali e di vite umane, per cui penso che continueremo in questo progetto virtuoso con la Regione.